Come eseguire lo stretching cobra? Andiamo a distenderci a pancia in giù sul tappetino, quindi ci stendiamo completamente a pancia in giù sul nostro tappetino. Posizioniamo le mani circa all'altezza del nostro petto. Teniamo il palmo della mano sia a destra che a sinistra completamente in appoggio al tappetino. I piedi restano a ballerina, quindi la mia parte alta del piede, il dorso del piede, rimane in appoggio al pavimento. Lentamente, guardando in avanti con gli occhi, andiamo a spingerci su fino a distendere completamente le nostre braccia. Il nostro polso deve essere in linea con gomito e spalla. La testa non deve né guardare in alto né in basso, deve rimanere dritta. Rimaniamo per qualche secondo e lentamente ci spingiamo giù, piegando i gomiti. Ok. Lo ripetiamo ancora una volta. Contrago al massimo, mi faccio forza con le braccia e con tutto il mio corpo. E mi porto su, guardo in avanti, manteniamo questa posizione per alcuni secondi e ritorniamo in giù. Ciao! Ciao! Grazie.